Un fenomeno in continua espansione, una piaga sociale che colpisce specialmente i più giovani. Il problema dell'abuso di droghe rappresenta una sfida complessa che tocca la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Il CERD di Bari è uno dei presidi più attivi sul territorio e ogni giorno aiuta centinaia di cittadini ad uscire dal tunnel della droga. Tanti giovani che si rivolgono allo sportello per ricevere sostegno psicologico. Purtroppo i dati non sono favorevoli perché abbiamo pazienti che arrivano sin dall'età di 13-14 anni fino a curare quelli che sono i pazienti più cronici che attualmente arrivano anche all'età di 60-70 anni. Sostegno, prevenzione ma non solo. L'arte accompagna i pazienti durante il percorso riabilitativo. Il CERD ha infatti allestito un angolo dedicato alla pittura. Come vedete in questi quadri per noi l'arte ha una rilevanza fondamentale. Infatti abbiamo allestito una mostra che ha dato la possibilità ad uno dei nostri pazienti, Mitola Filippo, di trovare uno strumento comunicativo essenziale che gli permette non solo di comunicare le proprie esperienze di vita, spesso contraddittorie. ASL Bari, Regione Puglia e Croce Rossa con il patrocinio della Società Italiana Tossicodipendenze hanno organizzato un evento in occasione della giornata internazionale contro l'abuso di sostanze stupefacenti. Alla tavola rotonda con le istituzioni seguirà una manifestazione nel centro cittadino. A seguire rispetto a questa tavola rotonda ci sarà un corteo nel centro storico di Bari chiamato simbolicamente i Cento Passi per valorizzare tutte le azioni che quotidianamente vedono impegnati tutti gli operatori delle dipendenze e in generale nell'ambito della rieducazione alla legalità.